Il Torino è decisamente la bestia nera della Roma per questo campionato. Dopo i due pali colpiti da Prati nella partita di andata, oggi il centravanti giallorosso ha centrato per tre volte il palo della porta di Castellini e il Torino ha espugnato l'Olimpico per 1-0. La squadra di Fabri, che ora è terza, ha confermato la solidità del suo impianto. Al terzo posto c'è il Torino che mette in vetrina la classe di Claudio Sala.